Questi sembrano dei normalissimi occhiali da sole, ma in realtà celano un piccolo segreto. Ve lo svelo tra poco qui su Tech Princess. Se avete in famiglia dei giovani oppure dei giovanissimi, avrete sicuramente sentito parlare di Snapchat. Si tratta di un social network focalizzato sull'immediatezza. Infatti tutti i contenuti che condividerete scompariranno dopo 24 ore dalla pubblicazione. Per creare uno snap si può usare la fotocamera dello smartphone e da un po' di tempo a questa parte anche questi occhiali. Si chiamano Spectacles, sono stati progettati proprio dagli ideatori di Snapchat e sono degli speciali occhiali da sole che contengono una piccola videocamera grandangolare che vi permetterà di acquisire foto e video. Due i vantaggi principali. Da un lato avrete un punto di vista assolutamente unico, il vostro, mentre dall'altro vi troverete con le mani completamente libere. Creare uno snap con Spectacles è facilissimo. Basterà premere il pulsante posto sulla montatura per catturare un video di 10 secondi. Tramite Bluetooth potrete poi inviarlo allo smartphone per condividerlo su Snapchat o su tutti gli altri social network. Attenzione però, il formato di questi video è molto particolare, quindi per godervelo davvero dovrete condividerlo su Snapchat. Sì lo so, detto così sembra un buon modo per invadere la privacy di amici, parenti e sconosciuti. Tranquilli però, durante la registrazione si accenderà una piccola spia luminosa che segnala al mondo circostante che state registrando un video. A rendere accattivanti questi occhiali però non c'è solo la possibilità di creare nuovi ricordi. Gli Spectacles infatti sono contraddistinti da un design moderno e capace di adattarsi facilmente al vostro stile. Tre, i colori disponibili, nero, corallo e ottanio. Vi ricordo che gli Spectacles non sono degli occhiali da sole normali, vanno infatti ricaricati proprio come uno smartphone. Per farlo basterà riporli nella loro custodia e collegare il cavo USB alla corrente. Ora però arriva il bello, per accaparrarvele ci sono due modi. Il primo è acquistarli online direttamente sul sito spectacles.com altrimenti potrete andare alla ricerca di uno dei tanti snapbot sparsi per l'Europa. Si tratta di distributori automatici di Spectacles. Gli snapbot saranno disponibili in un dato luogo per sole 24 ore. Allo scadere del tempo scompariranno per ricomparire in un'altra posizione. Per sapere dove trovarli visitate il sito dell'azienda. E anche per oggi è tutto, io corro a documentare tutta la mia vita con Spectacles. Voi però ricordatevi di seguirci sul nostro sito www.techprincess.it per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità tecnologiche. Ciao!